Il porto di Ravenna rimane aperto nonostante il coronavirus e le restrizioni del governo sugli spostamenti. Ai nostri microfoni il messaggio che lancia il direttore operativo dell'autorità di sistema portuale del mare Adriatico Centro-Settentrionale. È un gennaio non positivo, le prime stime di febbraio ci dicono invece che c'è stata una sostanziale tenuta rispetto al febbraio del 2019. Certo è che la situazione che sta vivendo tutto il sistema produttivo italiano non è facile e ovviamente il sistema logistico a cui appartiene anche il nostro porto certamente ne risentirà. Il messaggio però che vogliamo dare è che il porto è aperto, è in sicurezza per le merci, gli equipaggi e i lavoratori e quindi non viene attualmente toccato dalle restrizioni che purtroppo tutti i cittadini italiani stanno vivendo. Le merci ancora in Italia possono girare e possono transitare liberamente in tutti i territori. Quali merci hanno sofferto di più? Da un lato appunto alcuni approvvigionamenti di tutto il settore della ceramica, diciamo il distretto della ceramica di Sassuolo con imprese che avevano fatto scorta nel mese di dicembre quindi a gennaio hanno diciamo importato meno materiale e poi un trend purtroppo in alcuni altri materiali come i cereali dove i grandi player mondiali stanno preferendo in alcuni casi l'utilizzo della modalità ferroviaria rispetto a quella navale.